Parlare di emergenze territoriali analizzando la psicologia del fenomeno mafioso nella popolazione agrigentina è stato il tema trattato nel corso di un seminario che si è svolto tra ieri ed oggi all'ex Collegio dei Filippini di Agrigento. La due giorni è stata organizzata dal Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo preseduto dall'onorevole Maria Grazia Brandara che si avvalsa dalla collaborazione dell'equip di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo coordinata dal professor Girolamo Loverso. Lo scopo del convegno è quello di realizzare una ricerca nel territorio che intenda sensibilizzare la comunità rispetto alla presenza invasiva della mafia. In particolare si vuole esplorare le rappresentazioni mentali vissuti e le paure dei cittadini verso la mafia per favorirne l'elaborazione psichica. L'obiettivo operativo invece è quello di dare degli stimoli alla gente che possano favorire il cambiamento e lo sviluppo territoriale. Il Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo fu costituito il 28 ottobre di 15 anni fa. Ne fanno parte diversi comuni della provincia di Agrigento tra cui anche quello di Favara ed è nato grazie al programma operativo nazionale di sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno promosso dal Ministero dell'Interno. Il Consorzio si occupa della gestione dei beni confiscati alla mafia ed attualmente dopo la restituzione alla collettività avvenuta lo scorso 12 luglio dello stabile di via Fredino Rambi a Favara adibito ad osservatorio sportivo si sta cercando di consegnare anche un immobile sito incontrato a Cannatello che dovrà ospitare una casa famiglia per minori e donne vittime di violenza ed un altro fabbricato a Siculiana da adibire a centro di educazione ambientale. Si fa un perdire spesso quando si dice che la mafia va combattuta ma è un problema culturale quindi bisogna incidere sulla mentalità e sulla cultura delle persone. Allora coadiuvati dall'equipe diretta dal professor Loverso del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Palermo stiamo provando a scantagliare quello che è l'animo dell'agrigentino e quindi cosa significa come si muove la mafia e come interagisce con le istituzioni quali sono le paure che bloccano anche le persone oneste a rapportarsi in una maniera corretta. Al seminario erano presenti tra gli altri anche i primi cittadini di Agrigento e Favara rispettivamente Marco Zambute e Domenico Russello. Quest'ultimo accompagnato all'assessore comunale alle politiche giovanili Carmelo Vitello nel corso del suo intervento in relazione all'arresto a Favara dell'ex latitante Gerlandino Messina ha ribadito l'importanza che hanno le istituzioni nel diffondere i valori della legalità sul territorio. Non ci può essere sviluppo territoriale dal punto di vista economico, sociale, culturale se non c'è il rispetto fondamentale delle leggi, delle norme, dei regolamenti. Quelle tracciano il percorso di vita virtuosa di una persona, di un gruppo o di una intera comunità. Lo abbiamo ribadito ancora una volta anche in ragione degli ultimi eventi che si sono verificati e che purtroppo hanno proiettato Favara ancora una volta al centro delle cronache giudiziarie. Se i latitanti scelgono o decidono di venire a Favara è perché evidentemente trovano un omosiculturale, una subicultura tale che questo possa attecchire e possa accadere. È una piccola minoranza che però prende le prime pagine dei giornali, ce n'è un'altra molto più numerosa, che lavora in silenzio, che spesso non balza gli onori della cronaca, ma è quella, la parte importante, bella, sana, operosa della nostra comunità che crea le condizioni di crescita, di sviluppo, di lavoro e del vivere sano e del vivere civile. Ed è questo che bisogna incoraggiare, è questo che bisogna dire e fate sentire la vostra voce. Facciamo incessantemente opera di convinzione che stare dalla parte della legge, dalla parte dello Stato, dalla parte delle istituzioni, contiene ed è questa l'unica strada. Chi sceglie la via della illegalità non ha un futuro. Presso la Sala della Natività dell'ex Collegio dei Filippini erano presenti tra gli altri Giuseppe Nobile e Davide Lumia, responsabili dell'Associazione Berra Favara, che ha sede presso la Villa Estiva del Barone Mendola, leggermente restaurata e che diventerà un osservatorio sulla legalità.